Nessun ripristino delle sedi giudiziarie soppresse e a Rossano si passa all'occupazione del Tribunale. Da ieri sera avvocati e cittadini sono entrati nel Palazzo di Giustizia chiudendo le porte dall'interno per protestare contro la scelta del Ministro Cancellieri che ha deciso di prorogare per due anni l'attività dell'Ufficio Giudiziario confermando però la chiusura. Il decreto ministeriale emanato ieri non è dunque una vittoria. La modifica apportata non corregge la riforma delle circoscrizioni giudiziarie ma si limita solo ad introdurre alcune variazioni al percorso attuativo. Con l'autorizzazione e lo smaltimento delle attività giudiziarie arretrate l'obiettivo dell'accorpamento è soltanto rinviato. E rispetto agli altri tribunali italiani a Rossano è stato concesso anche lo smaltimento delle attività relative al penale. Il decreto emanato ieri, sostengono i deputati del PD della Calabria, è una vera e propria ammissione del fatto che la soppressione di Rossano è una grande irrazionalità nella riforma. È lo stesso decreto a riconoscere la eccezionale condizione in cui versa questa circoscrizione calabrese. Il fatto che solo ed unicamente a Rossano il decreto autorizzi lo smaltimento di tutte le attività arretrate, comprese quelle relative al penale, e un implicito riconoscimento della fondatezza delle ragioni che hanno individuato nella soppressione di quel tribunale un indubbio ed evidente errore compiuto nell'impostazione originale della revisione della geografia giudiziaria. È auspicabile, concludono i parlamentari calabresi del PD, che lo slittamento di due anni della data di compimento dell'accorpamento possa essere un tempo utile entro il quale il Governo provveda ad un atto riparatorio per un'effettiva correzione della riforma attraverso la cancellazione di Rossano dall'elenco dei tribunali da sopprimere. Ai manifestanti però non basta, dai politici avevano sentito ben altre parole, come le rassicurazioni di pochi giorni fa del senatore del PDL Antonio Gentile, che garantiva la salvezza del presidio di Rossano. Si va avanti dunque con la protesta, gli avvocati continuano ad occupare il Palazzo di Giustizia e proseguono nello sciopero della fame, perché al di là delle bandiere, del colore e delle appartenenze partitiche, la politica ha deluso ancora un'altra cosa.